22 festival abbiamo partecipato in 3000 al festival della scogliera dove all'inizio c'è stata un po di tensione con i contadini del posto perché avevamo devastato i campi ma senza violenza non c'è liberazione lì abbiamo ascoltato per tre giorni i complessi musicali in nausea e mondo di merda e abbiamo affinato la nostra presa di coscienza collettiva ogni giorno centinaia di persone intruppate in famiglie e famigliette venivano al festival per vederci a un segnale facevamo scattare l'operazione ludibrio per cui 10 15 di noi giravano per il campo con il cartello drogato sul petto e urlando toccavano il culo alle signore la provocazione contro l'ottusità borghese è riuscita a creare notevoli prese di coscienza collettiva il festival è poi terminato con questo comunicato la dura repressione della polizia contro le droghe leggere ha coinciso con l'enorme diffusione delle droghe pesanti eroina cocaina eccetera a bugheria si sono visti i risultati di questa subdola manovra governativa alcuni hanno venduto eroina e stricnina causando così diversi svenimenti a chi vendeva lsd e altri acidi a prezzi alti sono stati fatti degli espropri ma sono rimasti dei fatti isolati commento alcune aggregazioni sociali sono un concentrato dinevoluzione e non a caso riuniscono individui cui codici sono simili nelle loro basse vibrazioni ma come tutto ciò che accade anche tali aggregazioni di affinità sono necessarie nel suo intimo però ognuno deve disgustarsi per tutta questa inevoluzione contribuendo silenziosamente alla sua consumazione grazie 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 grazie